Francesco, abbiamo sentito e ormai sono alcune settimane che stiamo andando in onda in questo 2016 caratterizzata da un sentimento negativo sui mercati, questa discesa delle quotazioni degli indici piuttosto che ovviamente delle singole aziende ha portato a un calo anche dei valori dei certificate che sono scritti con determinati sottostanti, con questi sottostanti. Ecco, tuttavia se si va a vedere, a valutare un mix di rendimento aggiuntivo che viene offerto da questa discesa sotto i prezzi a parità e diciamo tempo residuo dell'investimento, ecco, che vi potrebbero essere delle interessantissime alternative. Se magari riesci a farci un quadro più completo sulla situazione e sull'opportunità anche da segnalare a casa. Sì, grazie Riccardo. Sicuramente rispetto al fine dello scorso anno molti titoli hanno visto scendere le proprie quotazioni a causa della discesa di prezzo di alcuni sottostanti. Quello che noi cerchiamo spesso di indicare come un punto di forza dei certificati è la possibilità di avere una protezione rispetto all'investimento diretto nel sottostante stesso. Quindi comunque investire in un certificato, che non sia un certificato ovviamente a leva, come un turbo o un leva fissa, può essere sicuramente un'alternativa valida in situazioni di mercato volatilo, comunque ribassista, rispetto a un investimento puro nell'equity. E specialmente in questi momenti fanno molto gola i cosiddetti prodotti a capitale condizionatamente protetto, non condizionatamente protetto, poiché appunto permettono all'investitore di stare più tranquillo e gestire la propria liquidità in maniera più sicura. Volevo parlarvi di una categoria di prodotti di cui non abbiamo parlato tantissimo nel corso delle varie puntate, che però in questo momento sono molto molto adatti agli investitori. Sono i cosiddetti bonus protection, li abbiamo messi circa un anno fa sul mercato, sono scritti su Fuzzimibro e Eurostoxx 50, quindi non parliamo di singoli titoli che magari possono avere delle performance anche molto negative, ma parliamo direttamente degli indici di riferimento, quello italiano e quello europeo. E grazie proprio alla discesa di questi indici di gennaio sono andati sotto la pari. Il funzionamento, vi faccio vedere questo sullo Stoxx 50, il funzionamento è molto interessante. Sono in questo momento, ad esempio, questo quota a 98,50, quindi sotto la pari, ha una barriera posta a 1.754, quindi a livelli veramente molto lontani. Adesso sto, proprio mentre parli sto andando a guardare il grafico dell'Eurostoxx 50 per capire 1.750 punti a quando si fa riferimento, ecco, giusto per intenderci, si sta parlando di valori che non vengono trattati, stiamo andando veramente indietro al tempo, ad occhio nel marzo del 2009, marzo-pile del 2009. Esatto, parliamo della crisi Lehman. Il titolo scade nel 2018. Sotto i minimi fatti segnare in piena crisi post Lehman, dunque i minimi del marzo del 2009 sono sotto i 1.750 punti, cioè sono sopra i 1.750 punti. Quindi fondamentalmente valori mai toccati, possiamo dirlo. Esatto, sì, non passiamo a questo termine, ma nel senso nemmeno negli ultimi anni di crisi sono stati raggiunti. Quindi scade nel 2018, la barriera, come dicevo, è 1.750 a scadenza, questo viene definito bonus, però fondamentalmente non è un bonus, poiché permette di avere la performance 100% dell'Eurostoxx 50, se non viene toccata la barriera, e lo strike dell'Eurostoxx 50 è 3.189. Quindi, poniamo un caso, il Eurostoxx 50 a scadenza quota 3.600, fa una performance positiva non solo del 20% rispetto al valore iniziale che è 3.189, io ottengo a scadenza 120. Quindi esattamente tutta la performance del Eurostoxx 50 rispetto a questo valore iniziale a scadenza che è fissata ad aprile 2018. Ma se dovesse cotare 1.800 punti? Se dovesse cotare 1.800 punti, il vantaggio è la protezione, poiché la barriera è a scadenza e restituisce il capitale investito, il capitale nozionale che è di 100 euro. Quindi il vantaggio è, io non so dove si posizionano i mercati, però lo compro a sconto, lo compro a 98,50. Se non mi tocca questa barriera che è estremamente profonda, ottengo comunque 100 e se l'Eurostoxx 50 nel 2018 è sopra i 3.189 punti definiti allo strike, io ho una performance positiva rispetto ai 100 euro. Quindi può essere consigliato come una sorta di capitale protetto se vogliamo passare questo termine, anche se fondamentalmente protetto non lo è, però perché la barriera è veramente molto profonda e comunque permette di avere la performance, tutta la performance senza un cap, senza un limite, nel caso in cui i mercati dovessero risalire fra due anni. Francesco, sto guardando anche il gemello di questo certificate, quello sul Fuzzimib, dunque il bonus protection sul Fuzzimib, anche qui barriera a scadenza ma soprattutto il valore della barriera 12.900, 12.896, questo forse è un po' più rischioso per il valore iniziale poiché il valore iniziale è 21.493, quindi dissa un pochino dagli… Scadenza a metà giugno 2018. Esatto, dissa un pochino dalle attuali quotazioni di borsa, però è interessante a mio parere in primis per il prezzo, poiché quota 90,50 euro, il valore nominale è sempre 100, quindi se a scadenza fra due anni e qualcosa, due anni e quattro mesi, non siamo sotto 12.900 punti, diciamo così, io ottengo 100 euro, a prescindere da movimenti del sottostante, del Fuzzimib in questi due anni, poiché la barriera a scadenza, però se io sono al di sopra di questi 21.493, ricordo fra due anni e mezzo, io comunque posso avere una performance positiva senza alcun limite di performance. Davvero interessante anche questo, appunto potendo giocare sulla differenza, sia sul prezzo che appunto sulla barriera che è estremamente profonda. Francesco, ti anticipo già che nella seconda parte di Borsa Indiretta invece andremo a parlare di Saipem, che il titolo oggi è stato protagonista di primo giorno di aumento di capitale, ecco dunque con diritti e azioni che si sono mosse significativamente, Poste, Italiane e Ferrari, visto che comunque sono fra le ultime new entry di rilievo a piazza affari, preparati qui per questa cosa. Invece volevo parlare con Gabriele, Borsa Indiretta evidentemente è un programma che mette al focus e al centro della sua attenzione anche il mondo dei certificate, sia quelli a investimento, sia quelli a leva. Direi che abbiamo ricordato più volte nel corso di Borsa Indiretta TV che avete stipulato anche un accordo, una convenzione con BNP Paribas su fronte commissionare, di questo ce ne parlerai tu però. Ecco, il vostro impegno, il vostro interesse per quanto riguarda l'intero mondo dei certificate vi ha portato quest'anno a vincere un ambito premio, quello di miglior broker in Italia nel 2016 per quanto riguarda i certificate, premio che avete ricevuto lo scorso 30 novembre durante l'Italian Certificate Award. Ecco, innanzitutto soddisfatto o no di questo premio? Direi di sì, ripaga. Molto più che soddisfatto, sia io personalmente ma soprattutto l'intero staff di Direkta è assolutamente entusiasta di questo premio che corona oggettivamente più di un anno di lavoro di tutto lo staff commerciale, l'appdesk, l'IT, la dirigenza e i partner che ci hanno seguito e supportato in questa iniziativa. In primis Benpe Paribas, sicuramente anche tutto lo staff di Brano di Torre e Borsi in diretta perché in più di 12 mesi abbiamo fornito education, abbiamo fornito servizi aggiuntivi, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative a beneficio del cliente finale, ovviamente il cliente di Direkta e i risultati si sono visti sia in termini di eseguiti che di apprezzamento da parte del pubblico. Sicuramente l'accordo che abbiamo fatto con Benpe Paribas a cui prima accennava Riccardo ha avuto un ritorno molto positivo perché limita se non addirittura a nulla uno dei problemi all'investimento soprattutto di importi medi di dimensioni, ovvero la commissione di negoziazione che si dà al broker. Da dicembre 2014 tutti i prodotti o la stragrande maggioranza dei prodotti quotati sul SEDEX da parte Benpe Paribas sono sia in acquisto che in vendita commissione zero con diretta a condizione che il controvalore sia almeno di 2.000 Euro. E questo è un vantaggio non banale perché ovviamente facilita l'avvicinamento di tutta la clientela a questo tipo di prodotti. Confermate anche per il 2016 commissione zero, non è che hai ricevuto il premio scappate? Noi l'abbiamo confermato fino a giugno di quest'anno, però la domanda la devi fare più al mio vicino di banco piuttosto che a me. Ovviamente i risultati ci sono, non tanto e non solo in termini di volumi, ma soprattutto di apprezzamento del pubblico e i certificate award ne sono stati il degno coronamento e soprattutto la prova tangibile. La commissione zero aiuta, non è l'unica iniziativa che abbiamo fatto e che facciamo. Un'altra iniziativa molto importante è quella di dare ai clienti la possibilità di partecipare alle OPV dirette sul mercato SEDEX. L'ultima, se non ricordo male, si è conclusa lo scorso venerdì. In aggiunta a questa, con BNP Paribas abbiamo organizzato numerosi club leva, ovvero incontri a Milano o a Torino, dedicati a un gruppo ristretto di clienti molto specializzati e anche affezionati, che hanno la possibilità di parlare direttamente con l'emittente, con gli strutturatori del prodotto stesso e dare i propri suggerimenti per migliorare il prodotto stesso, per andare incontro alle necessità del singolo privato. Ecco, proprio ricordando anche il club leva, direi che magari se vi fosse qualche ascoltatore interessato può scrivere direttamente al desk di Direkta per avere ulteriori delucidazioni o quello di BNP su come si svolgono questi appuntamenti e i vantaggi che ne possono derivare. Assolutamente. Bene, noi proseguiamo con Borsa in Diretta TV, con la consueta pillola che ci riassume e gli appuntamenti macroeconomici di rilievo che ci attendono nel corso di questa settimana, pillola quest'oggi realizzata per noi da Valeria Panigata della redazione Finanza.